Mi siedo al tavolino, voglio il massimo che c'è, ricette raffinate, come faccio al dirtino, di no, di no, mi voglio far del bene. Sono pochi favolosi, con ricette lavorate, sono buone esagerate, l'occhio mi evita, l'ho fatto matizza, la cola mi tira. E' il farrotto con gamberi e zucca, il protagonista della puntata odierna delle grandi ricette di RTV38. Diciamo farrotto, ma in realtà è il farro protagonista di questa puntata. Il farro è un cereale millenario, si parla di 10.000 anni fa, ha avuto una storia importante per l'alimentazione mondiale e poi è andato un po' in disuso, ma grazie a una grande intuizione dei produttori della Garfagnana, dove trova il suo habitat naturale, il farro, è tornato a nuova vita, quindi è diventato IGP e quindi viene coltivato come si deve. È un cereale biologico in maniera naturale, perché se si pompa praticamente non dà nessun frutto. Il farro generalmente viene cucinato come minestra, è famosa la minestra di farro con i fagioli, ma è interessante anche la sua versione da accompagnatore di tante pietanze, cioè non proprio da risotto, perché non è un risotto mantecato, ma lessato e poi scolato, si presta per esempio d'estate per fare delle insalate meravigliose, ma stasera il nostro cuciniere Sandra Lotti ce lo propone come forma di risotto insieme ai gamberi e alla zucca. Perché hai pensato questo piatto? Ma veramente ti dirò, ti ricordi Cesare Casella? Sì. Il ristorante Vipore, allora quando sono a New York ovviamente Cesare lo vedo. E Cesare... Ah, apro un parentesi, le patate fritte di Vipore, le patate fritte. Le faceva uguali al ristorante da Beppe a New York precise. E allora mi trovo a New York insieme al suo chef un giorno e si mangiava, e in il suo ristorante aveva fatto questo farotto con la zucca e i gamberi e era veramente eccezionale. Poi combinare la zucca insieme al pesce secondo me è un abbinamento perfetto, specialmente se si parla di un crostaceo, anche con la ragosta. Buono. Bene, allora restate con noi perché vi daremo tutte le dritte per usare il farro in maniera diversa, non la solita minestra di faro, ma una sorta di risotto, il farrotto, che imparerete stando con noi. Ci spiegherà tutto la sandra. E in cucina, qui alla Badiola, in questa splendida cucina del 1500 che ci ospita, grazie alla bontà di questi padroni di casa che ci hanno veramente aperto le porte e regalato uno scorcio che portiamo nelle vostre case sperando di fare cosa gradita, perché il casalinga ha portato la spesa, ma dietro c'è il bel fuocherello che ci scalda e vediamo la spesa per fare questo farrotto. C'è ovviamente il farro, attenzione il farro non va ammollato, gli va data una sciacquatina e via perché questo farro è semidecorticato per cui mantiene tutte le proprietà ma non ha una situazione come da ammollare. Poi qui abbiamo i nostri gamberoni, la zucca già bella e pulita, le cipolle e il nostro prezzemolo. E l'aglio. E l'aglio. Ma attenzione perché il casalingo oggi ci stupirà. Che cosa farai? Eh, per tutti coloro che hanno il cammino in casa faremo qualche cosa, un detersivo, fai da te con la cenere. Con la cenere. Quindi torniamo all'antico. All'antichissimo. È un sapore quasi di risciva. Di risciva. Eh, allora, attenzione perché una volta si lavava con la cenere e lui ci darà tutte le dritte per fare un detersivo, fai da te in casa, con la cenere. Vai in postazione e poi ci dirà tutto. E intanto qui in cucina con la nostra Sandra Lotti, toscana saporita. Ma che è toscana saporita? Ma che è? È la scuola di cucina. Ah, allora mi scrivo, eh? Mi scrivo. Senti, da dove iniziamo a fare il nostro farocco? Allora, prima di tutto il farro ha bisogno di una lunga cottura. Si parla di 35 minuti, ok? Farro biologico ovviamente della Garfagnana, questo è quello che proponiamo ovviamente sempre qui in Toscana. Il farro si cucina nell'acqua bollente con il sale, ok? Si tira giù il farro, si fa cuocere per una quarantina di minuti, 35. Questo è già cotto? L'ho cotto, perché altrimenti se no... Ovviamente, stiamo qui a guardare il farro che cuoce. Eccolo fatto. Ecco, viene sciacquato subito, così si rimuove parte di glutine e viene bello sgranato. Ecco, tra l'altro, tra l'altro, il farro ha il glutine, quindi chi è celiaco non lo può mangiare. Però ne ha poco, ne ha veramente poco, quindi è importante, no? Perché il glutine è una colla che è nel nostro intestino e ci dà fastidio. Fastidio, dà noia al cosiddetto microbiota o microbiota o microbioma a seconda, no? Perché c'è una differenza sottile, ma ora non stiamo a entrare nel discorso medico. No, comunque va sciacquato perché fa veramente una colla. E c'è poco glutine, vai. Dopodiché? E con il farro a questo punto, cotto anche magari un paio di giorni prima, ecco, perché è una ricetta molto versatile, si prepara una base e io qui ho le cipolle, se te mi porti il tuo fornellino, dei miracoli. Certo, e c'è il casalingo che è qui. Eccoci qua. Fornellino, vai. E con il farro già cotto così la ricetta è molto molto veloce. Di solito è una ricetta importante questa, no? Perché poi, io vi do un consiglio, no? Il farro cotto in questa maniera, per esempio, d'estate al mare, è la fine del mondo. E è ripresa la produzione del farro in Garfagnana, grazie al fatto che in Versilia, d'estate, ha preso piede di fare delle insalate di farro. E questo ha fatto sì che poi è ripartita la produzione. Per cui, attenzione, perché voi cuochi siete importanti, siete un po' dei custodi delle tradizioni. Perché se spingete un prodotto, automaticamente poi si produce. Penso alla trabaccolara. E torna in auge. Quindi metto la pentola sul fuoco? Sì. Mettiamo un po' d'olio. Lo sai che c'è un'associazione che aveva fondato Beppe Bigazzi, bellissima, che si chiama Osti Custodi. Cioè, gli osti custodi di un territorio che fanno la cucina sposata al territorio, che cambiano il menù a seconda delle stagioni. veramente una cosa eccezionale. Dovrebbe essere così, eh? È così. Aveva fatto una guida di questi osti di tutta l'Italia, che non si trova più. Forse su internet la potete trovare. È un libro che vi consiglio. Osti Custodi. Allora, la zucca, perché deve fare veramente, deve poi trasformarsi in una salsa. La zucca è stata cotta in forno. Allora, quando lavori qui, qui deve essere libero. Così le tue sante manine vengono inquadrate, queste manine veloci. Eh? Io qui intanto chiacchiero. Vai. Ma sì. Allora, il farro come l'enkir e il korosam, che tutti chiamano kamut, è uno dei tre grani antichi, no? Ecco, Fiorenzo, mi lacrimano gli occhi, ho bisogno del grembiule del Busatti. Che ti fa il grembiule con gli occhi che ti lacrima? Non lo so, ma mi schizzo. Spiegami questa cosa. Non lo so, perché, allora, ci sono tutte delle teorie sulle cipolle, no? Sì. Bisogna tagliare le cipolle con la lama fredda, col pane in bocca, tutte bischerate. L'acqua aperta. Invece non sono bischerate le apparecchiature del Busatti, perché sono straordinarie. Guarda quella di oggi, proprio per rendere omaggio alla Garfagnana. Che bel colore. Si sposa la Garfagnana con il mare. Veramente una bella ricetta. E poi un modo originale totalmente nuovo di usare il farro. Non la solita minestra, ma usato a mo' di riso. Lo sai che... I papaveri sono alti, alti, alti. No, vabbè, i papaveri sono molti da mo'. Sono piccolina, sì. Tu sei piccolina. Lo sai che in America, che inventano tutti i rimeri possibili, hanno inventato la maschera per le cipolle. Ti farei vedere, a volte lavoro in cucina con altri chef, ti arrivano con la maschera e sono pronti a attaccare la cipolla. Perché in America, come c'è qualcosa da vendere, la studiano subito. Certo, ma perché no? Perché no? Ti metto un pochino di sale. Poi ora torna anche comoda quella maschera lì. Ti metto un giro di pepe. Può usare anche per altri motivi. C'è anche quella maschera che ce l'hai al mare. Puoi anche tagliarla con la maschera subacquea, te la metti. Fiorenzo, a che punto siamo lì con la lisciva? Come si fa a fare questo detersivo? Fai da te, dici questi segreti. Allora, spieghiamo gli ingredienti. Prima cosa ci vuole la cenere e l'acqua. Sono questi gli ingredienti e basta. Cenere e acqua. Come vengono mixati? Allora, un bicchiere di acqua con cinque di cenere. Ah, cinque bicchieri di cenere e un bicchiere d'acqua. E si fa una poltiglietta. Si fa una poltiglietta. Ma la fai? L'hai già fatta. L'hai già fatta. Eccola qua. Si. E con questa andremo a sgrassare qualsiasi piano che sia grasso. Pentole. Ma assomiglia a un vecchio detersivo quello lì. Come si chiamava? L'antica lisciva. L'antica lisciva. No, ma c'era un detersivo di quel colore lì. Me l'hai detto prima. Non mi ricordo l'ora. C'era un detersivo che si chiamava così. Ah, il vecchio vim. Il vim di una volta. Oh, vedi il vim. Il vim era così. Praticamente era così una volta, perché non esisteva il supermercato. Noi lo facciamo in casa. Bene. Quindi questo è un altro segreto che ci dà il nostro casalingo. C'è anche un libro dove ci sono tutte le formule. Le formule. Se no confondiamo le ricette. Formule. Formule, formule. Per i detersivi fai da te. Intanto la nostra zucca si è affassita per questo farrotto. Che facciamo, cara? Il gambero. Il gambero. Allora tolgo la zucca. Si mette questa lì. Si mette questa. Cioè mettete che siete alla regia. No, no, questo lo metto qui. Non ti preoccupare. Te lo tengo al calduccio. Vai. Vado con il gambero. Lì c'è l'olio. C'è l'olio. L'olio buonissimo qui dell'azienda agricola Labadiola. Olio extravergine di oliva. Olio lucchese. Gli oli lucchesi sono molto preciati. C'è anche una DOP importantissima. Profumato. Profumato. I gamberi. Ah, si sta. Mai far diventare troppo scuro l'aglio. Mai. Deve solo csss e rilasciare tutte quelle che sono le sostanze dell'aglio. Ma mai. Meglio cuocere meno che troppo. Certo. Vero cara? Eh? Certo. Oh. È un antibiotico naturale, no? Eh certo. Fa benissimo. Altro che la curcuma. Aglie, cipolla e peperoncino. E si campa cent'anni. Anche di più. Oh, vedete. La Sandra ha aperto, ha tolto il filino. Lo diciamo sempre. Quel filino nero che è in mezzo ai gamberoni, agli scampi va tolto perché sembra un'operazione di poco conto invece è fondamentale se no poi c'ha quel sapore amarognolo, c'ha anche un po' di sabbia a volte. E quindi il farotto in questo caso lo facciamo con i gamberoni, ma lo potremmo fare con la mozzarella, lo potremmo fare con la mozzarella di bufala e poi lo potremmo fare con la carne, con degli avanzi di pollo, no? Uno li mette nell'insalata e via. Per cui il farro si presta non solo ai minestroni, ma anche come risotto, come base per tanti piatti, no? Cioè, questi siamo al massimo? Qui c'è ancora, mi sa che mi si è ammosciato? No! La fiamma mi si è ammosciata? Aspetta, dai, vediamo se... Allora, no, ma abbiamo la bomboletta. Dov'è la bomboletta? Eccola! Eccola! Mettiamola qua sopra, vieni qua. Abbiamo la... Tanto vai là. No! Me ne vanno! C'è, no, c'è ancora un po', però sta finendo via. Allora, l'estate sta finendo, anche la bomboletta sta finendo. E il gas se ne va. La cambiamo, e noi la cambiamo. Dov'è il problema? Very no problem. Eccola qua. Bomboletta, ta-ta. Questa va qua. Questa la voglio vedere, eh, dai. No, no, ma guarda, di solito io la faccio con gli occhiali. Senza occhiali è molto difficile. E te guarda lì che io recupero gli occhiali. Eccoli qua. Perché qui bisogna... Guarda, guarda, è facile. Che la vuoi vedere? Ho sempre cambiato in diretta. Ora, che... Dov'è il problema? Vediamo un po'. Si gira così, si gira, va lì. Toh, toh. Poi si mette questo così. Questo va giù. E voilà! Lo volevi il fuoco? Eccolo qua. Non è più mosche, è bello vivere. Perfetto. Oh, questa la mettiamo dietro. Anche il gambero è pronto. Vai. Per cui si riprende... Si riprende... La zucca. La zucca. Oh, là. Ora, aggiungiamo il farro. Entra in gioco il farro. Qui alle grandi ricette. Stasera vi proponiamo un matrimonio. E' un modo diverso di usare il farro. Matrimonio tra il farro della Garfagnana e il pesce della Versilia. In più, un modo diverso di usare il farro come riso. E se lo provate, non ve ne pentirete. Non ve ne pentirete di certo. Allora, ora si fa un pochino di prezzemolo. Vai. Vado, là, là, là. Mesta, Fabri. Mesta, su. Mesto, mesto. Eccoci qua. Eccoci qua. Certo, bellina la lisciva così fai da te, eh? Ah, guarda com'è carina. Guarda qua. Eh? Guarda com'è carina. Fallo vedere là. Non venire qui. Non mischiamo le cose. Il casalingo sta nel suo angolo. E qui invece si cucina. Ecco. Oh. Lo sai che l'Università di Firenze, con il professor Benedettelli, sta facendo da anni degli studi sul farro. Quello della Garfagnana sembra che sia proprio il primate di tante fari. Certo. E poi viene conservato il seme, perché se si risemina sempre il solito, poi si imbastardisce. Allora viene mantenuta la purezza del farro della Garfagnana. Certo. Attraverso l'Università. Non si scherza, eh? Non si scherza con questo prodotto. Molto, molto importante. Poi dal farro, già che ci siamo, con la farina di farro si possono fare biscotti, si fa la pasta. Certo. Ecco di cose. È veramente un grandono di Dio. Sì, 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 sì. Biologico naturale. E il burretto ci vuole, perché arruffiana tutto, eh? No, perché lo lega, perché lo dà dolcezza, perché lo rende lucido, per tanti motivi. Poi il sapore sta nel grasso, eh ragazzi. C'è poco da scherzare. Eccoli qua. Questo qui è prezioso. Prezioso. Ma se io volessi usare una variante, perché la cucina è bella, no? Cioè, faccio questo farrotto così, e poi i gamberetti ce li metto crudi sopra, che... Anche. Eh, potrebbe essere un'idea, no? Questi, sai, sono stati saltati leggermente con un po' di vino e di aglio, per dargli un attimino più di sapore, però puoi fare quello che... Ora, quindi, riepiloghiamo, perché il piatto sembra veloce. Il piatto sembra veloce, ma non è così veloce, perché il farro deve cuocere una mezz'oretta, diciamo, no? Dipende... Una mezz'oretta, mezz'ora, 40 minuti, dipende, insomma, da quanta acqua c'è, quanto se ne cuoce. E poi, una volta cotto, vedete, si salta da una parte il nostro gamberetto, si fa un fondino con la zucca, e si amalgama il tutto. Quindi, veramente, un piatto, una volta che avete lessato il farro, molto veloce, saporito, bello, nutriente, sano, ed anche da un punto di vista dietetico, abbastanza giusto, insomma, no? A tutti i nutrienti, tanto selenio. Selenio? Sì. Tanto selenio. Eh, lo chiamano le lisir di lunga vita, il farro. Oddio. Ma sai? Oddio. Ma io non voglio campare tanto, sai? Ma perché no? No, non ho voglia, non ho più voglia, che ti devo dire? Mi è presa... Oggi sono un po' depresso, su, dai, su, tirati su, eh, su, su, su. Mi tiro su col farro, mi tiro su col farro, su, tirati su, su. Mi tirerò su col farro. Allora, il piatto ha preso forma. Mi è sparito l'olio? L'olio, eh, l'olio qui della badiola è fondamentale, belli anche i colori, lo mettiamo... Cioè, aspetta, ci vuole il sottopiatto, perché è fondamentale, il nostro sottopiatto. Allora, io, siccome sei stata veramente brava, eh, dopo ti offro un grande caffè che ti tira su nel bisogno. Grazie, ma certo. Caffè toscano, segni d'arte, abbiamo le nostre capsule, cialde, anche compatibili con altre, con altri tipi di macchinette, è veramente una cosa eccezionale, buonissimo questo caffè, ne va ghiotto anche il casalingo, glielo diamo dopo al casalingo. Ma io glielo darei, poverino, perché se hai finito le mani, guarda. Sì? Cioè, è vero, hai ragione, Lorenzo, dai. Ma poi, guardate, no, è proprio l'angolo dell'alchimista del pulito. Se Simone adesso fa una carrellata, sembra proprio un alchimista, perché c'ha tutte le sue ciotoline e lo spirito e poi c'ha il bicarbonato e poi c'ha il sale e poi che c'hai, c'è di tutto. Di tutto. Il limone, spugnette, limoni, limoncelli, olio essenzale, agli agrumi. Ma poi guardalo, cioè, è l'immagine del pulito, è Mastro Lindo. Teatric è antistettico. Sì, è vero. Conosci, Alessandra? Sì. C'è tutto, c'è tutto, il limone. Allora, voi vi fate questo kit del casalingo e poi non c'è problema, dice, è finito l'asta limone, che vuoi? Me lo faccio, perché prendo il sapone di Marsiglia, ci strizzo un pochino di limone. Bello e fatto. Abbiamo risolto tutto. Abbiamo risolto tutto. Quindi, lui veramente si fabbrica tutto da sé. Ci scrivono in tanti che ci fanno i complimenti che si sono iscritti all'associazione. Quanti siete? Si supera i 7000 ora. Ecco, 7000. Ma tutti uomini? Anche donne. Anche donne. Ci ha più iscritti lui del PD. No, ma è vero. Allora, chiedevo. No, non scherziamo. Chiedevo. E quindi, poi c'ha dei motti ganzi, perché dice, le donne al governo del paese, gli uomini al rigoverno della casa. Bravo, bravo. C'ha delle cose eccezionali. Una volta mi ha portato a Val di Castello a lavare i panni nei vecchi lavatori. Fa delle cose incredibili, fanno le gite. Una volta a Sanremo c'è stato il primo convegno degli uomini casalinghi nel Casinò di Sanremo. Un macello. Ci sono andato anch'io, perché io ho una figura nella loro associazione, sono il filosofo dei casalinghi. Loro puliscono, io invece parlo, chiacchiero. Tu sei il prezzemolo. Sono il prezzemolo. Tornando a noi, chiacchiera, chiacchiera, mi avete fatto venire anche sete, bevo un bicchiere d'acqua, bevo acqua, l'acqua che fa fuori la plastica e vedete c'è il depuratore qui sotto l'acquaio della badiola perché viene depurata ovviamente. Può arrivare anche frizzante, io la preferisco naturale. Sì, ma perché la vuoi frizzante? Su, liscia. Bene, questo è il nostro piatto. Prima di salutarci però io vorrei che tu ci spiegassi bene questa Toscana Saporita che è una scuola di cucina. Una scuola di cucina che è nata 27 anni fa negli Stati Uniti e poi è stata trasportata qua in Toscana dove sia io che mia cugina avevamo ovviamente la famiglia, le origini e tutto e ora è a Massaciuccoli presso la Casa Rossa che è una zona bellissima che ci sei stato le vista e niente ci si diverte. Allora siccome noi andiamo su RTV38 in diretta streaming e c'è qualcuno che ci vede anche dall'America fai un saluto in inglese a tutti i tuoi alunni dai Hope to see you soon Diggi che abbiamo fatto oggi We're a mask we made faro again with shrimp and butternut squash and it's delicious Amici ameriani vi saluto anche Dio l'aiuti state buoni qui si è mangiato e si è pulito il piatto di oggi lo riepiloghiamo un modo originale di fare il farro non la solita minestra di farro ma il farro usato a mod di risotto il farrotto che la nostra Sandra Lotti ha voluto sposare con il mare della provincia di Lucca il mare della Versiglia è venuto fuori questo piatto farrotto con gamberi e zucca noi domani sera siamo ancora qui dalla domenica al venerdì non ci siamo il sabato ma gli altri giorni sempre con cuochi diversi con piatti straordinari grandi ricette che però voi se ci seguite potrete comodamente rifare a casa vostra è veramente tutto casalingo sugli attenti viva il pulito e viva le grandi ricette di RTV 38 a domani sera ciao ciao ed io ti mangio rock ed io ti mangio rock ed io ti mangio rock ed io ti mangio rock